Un altro concreto passo per la promozione della mobilità sostenibile. Il comune di Alessandria avrà a disposizione per la prima volta un'auto di rappresentanza al 100% elettrica consegnata, incomodato d'uso gratuito, dalla concessionaria Resicar di Spinetta Marecco. La Nissan Leaf avrà un'autonomia di circa 270 km. Una macchina che fila liscia, molto duttile, molto semplice da guidare e poi soprattutto l'emozione, il convincimento di una macchina elettrica che quindi non va a combustione, non produce gas di combustione ed è come guidare una prospettiva sul futuro. Sono convinto che bisogna spingere molto sulla mobilità elettrica e sono convinto che non basta solo dirlo, ma bisogna anche farlo. Se la parola è un suono, l'esempio è un tuono. Mi auguro che l'esempio, il poter utilizzare, grazie all'attenzione che abbiamo avuto da parte di Nissan Italia e della concessionaria Resicar, di poter proprio svolgere questa funzione per la città. Esemplificare, far vedere come viaggiare sull'elettrico oggi non solo è possibile, ma anche bello ed elegante. Per Palazzo Rosso si tratta di un altro segnale di vicinanza alle tematiche ambientali in vista della prossima approvazione del piano urbano della mobilità, dove ad esempio sarà autorizzato il parcheggio gratis anche negli stalli blu per le auto elettriche o ibride. È una grande soddisfazione vedere un'amministrazione che crede in quello che è la mobilità elettrica. Questo migliorerà la guida, ma soprattutto la qualità di vita per noi all'Alessandrini. La vettura è una vettura che è la più venduta al mondo in questo momento. Nissan è una delle case, se non la casa automobilistica, con la tecnologia più avanzata nella mobilità elettrica. Dal 2011 la prima Leaf, oggi siamo oltre 400.000 nel mondo. Per cui siamo convinti che gli amministratori, il sindaco apprezzeranno questo veicolo e anche i cittadini che devono avere un esempio di fronte, che è questa la cosa importante. Noi con la nostra azienda siamo a disposizione, anche solo per Test Drive, per informare, per far provare a chi non ha mai avuto la possibilità o chi vuole provare una vettura elettrica di venirci a trovare. Siamo là a Spinetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.